Era una passione, era quello che volevo fare, quindi aprire il mio negozio e non ho voluto aspettare, anche se il momento è molto difficile anche con queste chiusure che ci sono ora, però non ho voluto aspettare, era per dare un po' uno schiaffo al Covid e non arrendersi. Luca è un giovane barbiere di appena 30 anni che adesso ha deciso di sfidare la pandemia in un momento così complesso come quello che stiamo attraversando, ha infatti deciso di investire sulla sua passione e sul suo mestiere tradizionale. Sono stato ufficialmente aperto quattro giorni. Luca infatti ha inaugurato il suo barbershop proprio alla vigilia dell'ingresso dalla provincia di Arezzo in zona rossa che di fatto ha imposto la chiusura a barberie e parrucchieri. La voglia di lavorare, la voglia di aprire e tutto ti viene bloccata, quindi insomma non è stato per niente bello. La passione di Luca per questo mestiere parte da lontano ed affonda le sue radici nella storia di famiglia. Sono cresciuto nella bottega di mio nonno che ha fatto il barbiere per tantissimi anni, quindi crescendo, passando le giornate intere nella sua bottega è venuta naturale. La speranza adesso è quella di poter riaprire le porte della sua attività il prima possibile. Ci siamo adeguati a tutte le disposizioni anti-covid, quindi un cliente alla volta, andiamo per appuntamento, maschere, mascherine, gel, sanificazioni a ogni cliente. Seguiamo le regole, seguiamo tutti i protocolli di sicurezza e non capisco queste chiusure.